Sembrerebbe negarsi La via della conoscenza, attraverso Attilio M, vocedellacuiete.vaglianochiocciolagmail.com, soggetto. Quindi in qualche maniera la via della conoscenza apparentemente sembrerebbe negarsi, e in qualche modo è così, come vedremo. La via della conoscenza vi conduce ad un punto nel quale apparentemente voi siete quasi consolati rispetto alla perdita dei concetti perché vi gratificate nel riconoscere la stringente logicità di ciò che vi viene proposto. La catarsi che ciò che vi viene proposto vi provoca dentro, magari nel vedere alleggerita la vostra esistenza, nel vederla più aperta all'onda della vita. Ma in realtà tutto questo prepara uno scacco ben più profondo perché finché la via della conoscenza non vi toglie la possibilità di erigere una meta, in qualche modo la mente torna ad affermarsi sempre nella vostra esperienza. Non mi interessa che dal punto di vista dell'insegnamento voi concordiate con il fatto che dovete lasciare andare, che tutto accade, che voi non ci siete e via dicendo. Quello che mi interessa in questo momento è sottolinearvi come la via della conoscenza più si radicalizza nella pratica concreta, più fa emergere la sua capacità di trarre la mente in inganno e di crocifiggerla talmente tanto da toglierle la possibilità di erigere ancora mete, di erigere ancora obiettivi, di erigere ancora finalità, senza ovviamente con questo teorizzare che voi siate non mente o che in qualche modo siate già giunti lì a togliere la gente.